In collaborazione con Glam Vision e K. Fakli. Trasedia sulle piste a Racines in Alto Adige. Morto un ragazzo di 22 anni. Lo sciatore è finito contro un albero. Drammatico incidente a montagna in Alto Adige. Al termine della spilata di Carnevale, un carro si è ribaltato. Tante persone ferite. Politica. A tenere banco è ancora il centro-destra. Dopo l'accordo ormai dato per certo fra Piatiti e Lega, parla la candidata presidente Francesca Gerosa. Non faremo passi indietro. In Trentino aumentano i giovani con difficoltà di apprendimento nelle scuole. Il numero uno dei presidi Trentini dice Togliamo le bocciature e le classi per età. Serve riformare il sistema. Dalle bronchioliti alle mononucleosi. Anche in Trentino, diversi i bimbi di pochi mesi ricoverati in ospedale. Hai bisogno di badante, colf o babysitter e non sai da che parte cominciare? I servizi delle ACLI Trentine ti aiutano a trovare una figura professionale che si prenda cura dei tuoi cari e della tua casa. Ecco come troviamo la persona giusta per te. Con un colloquio capiamo quale figura professionale stai cercando. Dopo un'attenta preselezione, organizziamo un incontro per consentirti di prendere la decisione più giusta. E poi cosa succede? Pensiamo a tutto noi. Una volta individuata la persona da assumere, gestiamo tutti gli adempimenti legati al rapporto di lavoro. Incontra lavoro. Il tuo cuore. Nelle mani giuste.